Il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, stimola le acque del pantano elettorale. Dopo mesi dall'annuncio ufficiale di una sua candidatura a sindaco di Messina, che nel 2018 varrà automaticamente il vertice della città metropolitana, l'esponente dell'Udc cambia scenario. Ieri al termine della seduta dell'Assemblea, l'ex vice sindaco ha dichiarato di non voler interrompere il percorso e ha annunciato che anche il prossimo anno intende candidarsi alla Regione, chiarito non da presidente della Regione. Un'uscita che scuote gli ambienti politici. Nei giorni scorsi sussurri davano all'ex sindaco Buzanca, proprio con l'appoggio di Ardizzone, voler tornare a una candidatura regionale, ma a quanto pare nelle ultime ore le cose sono cambiate. Senza più Ardizzone tra i candidati sindaco, a meno di due anni dalle future consultazioni comunali, e data per certo una nuova candidatura di Renato Accorinti, restano in Lizzi il sindaco di Santa Teresa Riva Cateno De Luca, sempre in attesa della sentenza del 7 dicembre per i fatti di Fiume di Nisi, e poi circolano, ma non ufficialmente, i nomi dell'ex assessore consigliere comunale Gaetano Giunta e del rettore Pietro Navarra.